Gira la testa a destra Dimmi quando hai il dolore Adesso Ok, tienila a diritta Gira la sinistra Adesso Perfetto, diritta Tira sulla testa Dimmi quando comincia il dolore Adesso Ok, tienila a diritta Porto aggiungimento indietro Il momento che abbassa la testa Adesso Perfetto, diritta Troviamo il top point Sulla PC5 Allora, in questa posizione Non sono sempre fastidio No Stai comodo o hai fastidio in questa posizione? Passati i 90 secondi Usciamo lentamente dalla posizione Adesso stiamo trattando un PLC Quindi abbiamo gli rettori della colonna Sul lato del sulco Passati i 90 secondi Ok, girati sul fianco Metti le gambe fuori Alettino Tutti qui E si alzi Lentamente Alza e metti le gambe fuori Vai, girati la testa a destra Così? Allora Deritto Gira la sinistra Perfetto Guardi in alto Qui Benissimo Porta giù Mento per basse Guardi in alto 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 Grazie a tutti.